team bravo dai siamo noi tre possiamo essere tattici ragazzi allora quello che dobbiamo fare è mazzare con te che cazzo fai? c'è il fuocamico madonna che palle questo ha già 80% di vita bravo ah minchia ok, siamo tattici che cazzo di tattica è? tattica di qualcuno che ci sta sparando la finestra stanno quale delle tante finestre? io se sei cieco ecco, morto yeah curati amici c'è un casino di sanguinamento in basso a destra sta la barra rossa che le sei curate e diventata gialla tutorial veloci, semplici e pratici ehm quando sei morto Mattè? si, si anita vabbè mica avevi 30% di vita la fede del nemico e mi porca mutata l'ho visto l'ho visto e però mi, mirallò almeno tini lo d'occhio curaci non lo fare, non lo fare, non lo fare, aspetto grazie eh 25% di vita minchia ma quello li ha preso la bandiera dobbiamo difendere noi c'è proprio ecco appunto in alto in alto sta scritto cosa dobbiamo fare adesso sta scritto defend quindi dobbiamo attaccare oltre a uccidere dobbiamo difendere ma scusa con due che cazzo di granata lancia la granata ti fa danno con tre decido di granata con 4 primo lanciato a caso qualche ti ho visto molto in testa proprio il corpo cecchino minchia impero è quello qua fa un culo ma qua si mi sta assicurando aiuto no mi sta assicurando non ti posso non si non so si no no ho fatto il piloto ho fatto appunto a strasione cecchino tutti contro quel cecchino allora ricordiamoci non dobbiamo uscire davanti al cecchino ok andiamo davanti al cecchino vendicaci tutti vendicaci tutti bravo possibilmente rianimaci tutti aspettate l'importante è che non si rianimano ok se non ci rianimano non viviamo bloccala 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 ma è morto vabbè che culo è ed shot era coglione pure lui ripartiamo aiuto mi stanno sparando cosa faccio adesso non dire cosa ecco non rianimarci più a fa culo vai vai la figura di in pet ok dobbiamo dimiderci quello che abbiamo fatto finale io Matteo insieme migliore da solo andiamo Matteo io mi sento Scooby Doo da solo però senza Shaki cosa mi dice che voi due morirete subito e presto se certo ho fatto una kill anche ho fatto un headshot a caso proprio cosa è successo? sono esploso ah è vero che sono quattro minchia oh due stanno andando insieme comunque e stavano vicino a noi ok è usciata questa porta tipo lì ma sei una merda allora l'hai visto hai pensato hai mirato e mentre mori di sparare pensavo fosse amico ma se siamo noi due allora allora gli unici amici siamo noi due siamo morti ci hai visto pur a terra senti se vedo blu per me è amico mannaggia santa è un nero di merda questo è perché si deve andare assieme così imparate quindi dobbiamo spargerci ma da faka ma da faka no 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 so preso una paura sono spaventato no porco tu sto pom però lo diritto proprio se ne è morti vero mi sento solo camper uno ne manca ah no due ne manca a me è massato qualcuno no allora due ne manca venitevi a prendere sta puntata bandiera si ma la prenderà e ti ammasseranno questa unica differenza brutalmente anche male è morto recentemente cioè proprio irrisorgibile si non si accorgeranno io stavo guardando un attimo fuori dalla finestra mi sento sparare a destra mi sono preso paura cioè non mi prendevo paura quando facevamo i giochi di gioco mi prendo paura qui perchè ha lanciato una una frog una frog ha lanciato fraus perchè ha lanciato fraus perchè ha lanciato fraus perchè c'è quel brio in merda che cazzo fai mi fa di testa che ci sono andorini senti sono in esagizzazione statti zitto si sentono i pali ecco lo vedo stupido ma affacciati dalla porta che sta a mezzo metro no eh proprio ma stai guardando una partita di tennis non ho capito non sto solo facendo attenzione a caso ma vieni di qua o vieni di qua ah non sono mai arrivato nel corso della mia video tutta in questo gioco all'ultimo minuto madonna mia questo per farti vedere quante cazzo ci stai un secondo resisti un secondo bravo ah proprio il tuo cantarangio è riuscito è servito a qualcuno no e partire lì ci dovrebbe romare ah no campere non ti è 3 all'angolino no vabbè che schifo si dovremmo camperare come borgia che schifo di partita ma questo è un gioco da campere si perchè muore in tre cose non mi ha visto io rischio sono camperi oh ma si velocemente 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 stanno la bandiera stanno la bandiera stanno la bandiera stava la bandiera aia stava si proprio di fronte è lì la eccolo come cazzo è morto che bello in volo ahah 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 aspetta mo sicuramente uno uno di noi se ne va di la sicuro si infatti è meglio ahah 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 e non voglio stare con questo ma e voi sapete ora dove sto no no mica ti vediamo sappiamo solo che l'hai presa che cazzo mi spari coglione nooo dai mi hanno ucciso manco uno ah si uno si ti è mai arrivato che cazzo sono morto come perchè non mi son curato per sanguinamento perchè ancora che culo che culo che culo che culo veramente perchè assolutamente che son coglione io cioè come minchia la mira la mira proprio mi sono sparato una canata indosso no 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 niente mmm tizio 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 carlos tizio carlos tizio carlos tizio carlos tizio carlos fuci di mojito non puoi fare del male comunque sbagliato secondo me protegge fare la sicurezza lì ecco ah ma voi eravate attaccanti ehm ma quando da non ho detto a livello da quel round andi metà partiremo piacendo solo mingia ah facile bohb efe di res na ma ma וניםutaci eh ma come è morto chi ci era davate come cazzo sei morto ma non si serve una granada di prevenzione? avrei fatto una strage grazie adesso iniziamoimoto c'è un senso c'è un momento quando alie disse cambiamo strada non tutte e due sembra che si è scivolato ma questo e questo si chiama gangbang si chiama c'è un'altra cosa ma dove cazzo c'è un po' vuol dire che stai campando vuol dire che mi sto cercando ma sei un coglione non sto vedendo niente grazie ma con io vedo un cazzo eh vabbè siamo stati bravi eeeh grazie a tutti Grazie.